Ancora poche ore per la composizione della giunta Pedrotti, dopo l'intesa raggiunta tra i partiti della maggioranza. E' lo stesso sindaco che intende presentare domani l'esecutivo in vista del prossimo consiglio comunale che si terrà lunedì 20 giugno. Ma ci sono già delle certezze. Claudio Catarruzza, padre della manifestazione culturale Dedica, ha accettato da tecnico esterno ai partiti l'assessorato alla cultura. Il cosiddetto super tecnico per la cultura e il turismo, perché queste saranno le sue deleghe, ci sarà. Claudio Catarruzza ha accettato questo importante incarico nella mia giunta. I cittadini lo conoscono meglio come la persona di Dedica, cioè di una delle manifestazioni, direi a livello regionali, dal punto di vista culturale più importante. All'ex presidente del consiglio comunale Vincenzo Romor, politiche sociali e sanità, lavori pubblici a Renzo Mazzer, ambiente a Nicola Conficoni. Ma quali saranno i primi passi a giunta fatta? Noi dobbiamo aggredire i problemi del lavoro del welfare, che sono strettamente connessi. In modo più specifico, sulla parte dell'incoraggiare le microimprese giovanili, lì vogliamo capire fino in fondo e da subito che cosa è possibile pensare di fare, come, d'altra parte, una feta importante è quella del commercio. Per cui abbiamo già avuto un incontro informale per capire come far partire questi progetti di rivitalizzazione del centro, che non hanno solo una valenza verso i commercianti. Far ripartire il centro ha un impatto sociale rispetto alla parte centrale della città e delle attività economiche che vi si svolgono, importantissime come ricaduta su tutti i cittadini.